Chi sei e cosa fai? Sono David e sono un programmatore in Devler. Nome con il quale ti chiamano i tuoi colleghi. DVD. Le tre parole che usano i tuoi amici per descriverti. Simpatico, rumoroso e ingombrato. I tre linguaggi di programmazione che ami di più. C++, Python e Rust. Il tuo talento nascosto. So ascoltare. Il piatto che cucini meglio. Tiramiso. Cosa ami di più dell'essere un develeriano? La libertà. L'eroe che ami di più. Albert Sabin. Il progetto preferito su cui hai lavorato. Un modellatore 3D che girava in un brodo. Una skill che ti piacerebbe imparare. Fotografare. L'aspetto migliore di lavorare con Devler. È piena di gente interessante. In quanti eravate in Devler quando hai iniziato? Poco più di 10. In quanti siete oggi? Più di 70. La canzone che non smetteresti mai di cantare. Vuoi mi arrabbi dire qui? Ce la cantichi? No. DVD di ieri e DVD di oggi in Devler. DVD di ieri, un figlio e un po' di esperienza. DVD oggi, due figli e più esperienza. Ma meno capelli. Il miglior posto nel mondo. Qualunque con la mia famiglia. Una serie tv vista tutta ad un fiato. Breaking Bad. Il ricordo più bello che hai di Devler. La voglia di venirci tutti i giorni. Cosa avresti fatto se non fossi entrato nel campo della programmazione? Ingegnere da spaziale. La miglior band di tutti i tempi. Megadeth. La più grande avventura mai fatta. Due figli contano? Un consiglio per qualcuno che ha appena iniziato a programmare. Insisti perché ce la puoi fare. Completa la frase. Devler è? Un bel posto pieno di gente interessante.